È uno studio grande, è uno studio che coinvolge tante figure, tanti professionisti. Chi entra nello studio Bernardini tende al sacci. Ovviamente poi nel tempo ognuno di noi ha assunto una sua indipendenza, anche un suo carattere nello stile difensivo. Con l'avvocato Anna Maria Bernardini de Pace ci conosciamo da tantissimi anni. Da 17 anni, per essere preciso, che sono in questo studio. L'avvocato Bernardini de Pace ci tiene moltissimo a formare ciascuno di noi dall'inizio. Perché di fatto siamo tutte cresciute insieme, anche professionalmente. Noi ci possiamo occupare della persona a 360 gradi, dalla vita alla morte, passando per le tappe più importanti, ma veramente proprio dalla vita. Va riconosciuto, insomma, che questa che trattiamo abitualmente è una materia che richiede una certa sensibilità umana. Che non è solo separazioni, divorzi, è tutto, è il diritto di tutti e di ognuno ai componenti della famiglia. Perché anche proprio nel linguaggio, nella spiegazione, l'avvocato Bernardini de Pace vuole che usiamo un linguaggio molto semplice, che tutti possano comprendere. Non c'è niente di aulico, niente di legalese. Competenza e sincerità, obiettivi chiari e franchi, leali.